Fratture al femore e tempi di modalità, se ne è parlato durante un convegno che si è svolto nell'auditorium dell'ospedale Vittorio Emanuele nell'ambito della giornata della traumatologia giolese. Destinatari dell'incontro sono stati medici di medicina generale, pediatri, ortopedici e terapisti. L'ortopedia di Gela c'è e c'è anche a buon livello. La conferma è il consenso di autorità sia a livello nazionale e internazionale, oltre a tutti i primari del circondario e anche oltre, nel venire qua e a dimostrare questo. Uno degli obiettivi fondamentali che ci è stato proposto a livello di direzione strategica è quello di diminuire l'immigrazione sanitaria. Quindi diciamo l'obiettivo è quello, far capire alla gente che non è necessario andare fuori, ci si può curare anche a Gela. Un focus medico che ha visto la presenza tra gli altri della professora Max Morandi dell'Università Americana. La platea è stata presente molto in questa giornata qui a Gela, un folto pubblico sia di medici che di utenza cittadina che ha voluto testimoniare come l'ortopedia gelese sia importante per la città e per il circondario. Ed è importante sottolineare anche che non si emigra più, si può curare anche a Gela. Certamente, si è visto già negli ultimi mesi da quando il nuovo corso dell'ortopedia gelese è stato instaurato così con successo come a un certo punto la stragrande maggioranza degli utenti traumatizzati possa essere trattata qui in zona. Durante il convegno si è parlato tra l'altro delle complicanze a breve e medio termine e del trattamento con placche e viti. Sono ovviamente le fratture oggi in grande aumento per via degli incidenti automobilistici, degli incidenti sul lavoro, quindi rimane sempre un argomento molto attuale e naturalmente parlare del primo trattamento che deve essere atto ad evitare eventuali complicanze diventa un momento importante. La segreteria scientifica era composta dai dottori Sebastiano Mangano, Emanuele Aliotta, Andrea Costa, Luigi Di Cata, Angelo Raitano e Salvatore Sauna. Abbiamo avuto una grande risposta sia dei colleghi ortopedici che delle altre figure professionali che abbiamo invitato come i fisiatri oppure i terapisti della riabilitazione. Sicuramente la caratura degli ospiti e dei relatori ci ha aiutato, è andata veramente molto bene.